Oggi parliamo del tavolo tecnico che si è sviluppato settimana scorsa 14 dicembre 2021 sulla cannabis ad uso medico e facciamo anche un recap un po' dell'uso medico della cannabis ovviamente sapete benissimo come funziona, serve la prescrizione, serve purtroppo un percorso terapeutico precedente, serve ovviamente un medico che faccia questa prescrizione, la prescrizione è una ricetta che ovviamente non è ripetibile ma ci sono delle sfumature di ripetibilità eccetera eccetera col medico valita soltanto sei mesi ma può valere in modo diverso, insomma queste sfumature poi variano anche da regione a regione ma la normativa nazionale fondamentalmente in modo generale e generico per capirci tutti è questa, serve avere una prescrizione medica da un medico e effettivamente questa prescrizione permette di ottenere tramite le farmacie autorizzate ovviamente la cannabis ad uso medico o viene fornita dagli ospedali poi anche questo dipende da regione a regione, alcune regioni può essere rimborsabile per alcune malattie per altre no eccetera eccetera insomma dipende anche da questo ma fondamentalmente la linea è questa esiste una normativa nazionale quindi con una prescrizione se si fa un percorso terapeutico si può ottenere la cannabis ad uso medico ma sono delle grandi problematiche quindi diciamole subito sono la rimborsabilità che non è per tutti non è uniforme questa sicuramente è una problematica importante ma poi le grandi grandissime problematiche sono fondamentalmente che non c'è grande disponibilità non c'è disponibilità e varietà di fornitura di produzione di prodotti non c'è abbastanza quindi punto produzione di prodotti e di fatto è anche difficile ottenere la ricetta e ottenere quindi l'uso medico certificato per la propria patologia questi sono i problemi che ci sono in italia inoltre ovviamente non si può coltivare per ottenere la cannabis ad uso medico questo dobbiamo comunque mettercelo in testa perché comunque come abbiamo detto mille volte queste situazioni che abbiamo raccontato presuppongono che il prodotto che oggi viene prodotto in italia soltanto a firenze l'istituto farmaceutico militare di firenze viene prodotto soltanto lì in regime di oligopolio di monopolio di farmacoligopolio come abbiamo chiamato noi ecco si produce qui e si può importare dall'estero nessun altro autorizzato a produrre in italia quindi di fatto anche questa distribuzione che parte da firenze non ha mai raggiunto dei livelli top bisogna dirlo questa è un'altra problematica italiana però ripetiamolo nuovamente la legge c'è queste situazioni ci sono e quindi molti pazienti hanno diritto alla terapia ma non riescono a ottenerla e tante vicissitudini sicuramente ripetiamolo ancora un'ennesimamente volta questa cosa la cannabis ad uso medico è presupposta all'interno di pretocolli regolamentati dal life e quindi viene considerato un medicinale e quindi soggetto a responsabilità all'uso e quindi è difficile arrivare all'autoproduzione personale in questa situazione di uso medico si potrebbe incardinare quest'uso medico qualora ci fosse un uso di liberalizzazione quindi la coltivazione personale per tutti potrebbe essere sfruttata per l'uso medico facendo analizzare eccetera eccetera ma arrivare all'uso medico insomma direttamente all'autoproduzione è complicato per questioni di responsabilità anche penale per l'uso medico eccetera eccetera quindi di fatto è un medicinale come si potrebbe risolvere questa situazione per tanti che hanno presenziato al tavolo tecnico ringraziamo cannabis scuola sicilia cannapa caffè l'associazione luca coscioni il comitato pazienti deep green e la piantiamo che comunque ci forniscono informazioni anche se comunque noi non siamo totalmente d'accordo con il loro approccio su questo argomento noi proporremmo cose differenti da quello che è stato proposto comunque un regime di rimborsabilità totale su questo siamo d'accordo e invece spinge per aprire ai privati inteso come aziende e come regioni nella produzione nazionale questo potrebbe essere sicuramente un pagliativo secondo noi potrebbe essere una strada che non risolverà probabilmente nulla perché comunque se poi la distribuzione non si vuol fare poi insomma questo è il problema se non si arriva a avere la ricetta se non si arriva a avere il prodotto dovunque lo producono insomma se poi si vogliono fare degli staccoli burocratici si trova sempre in modo e magari invece distribuendo questo oligopolio questo farmacoligopolio a tutte le aziende si va invece a creare un business che potrebbe spingere a regolamentare la cannabis qua sicuramente ma potrebbe anche chiudere il mercato uso medico su se stesso come già è e relegarlo ulteriormente a loro stessi ma all'interno di queste due soluzioni che comunque sono sempre un percorso cioè ampliare tutto che è quello che è stato proposto nel tavolo tecnico che probabilmente si farà vorremmo aggiungere la nostra proposta perché non iniziare a ragionare sul rendere la cannabis ad uso medico nella normativa un farmaco da banco e un farmaco off label prescrivibile per altre patologie dietro autorizzazioni eccetera eccetera informative e soprattutto renderlo un farmaco da banco uno dice ma così non sarebbe più possibile avere rimborsabilità no potrebbe esserci la rimborsabilità comunque con delle situazioni di certificazione e ci potrebbe anche essere di fatto la certificazione autorizzativa anche per malattie più gravi quindi utilizzare comunque il prodotto cannabis come farmaco per tutte le patologie più gravi perché di solito i farmaci da banco non vengono utilizzati poi per patologie più gravi ma in questo caso si potrebbe fare e esistono già dei farmaci questo abbiamo preso da dei siti di farmacie che vengono utilizzati sia dietro ricetta come potrebbe rimanere la cannabis quindi già incardinata ora sia nel da bancone da banco che uno entra e compra se ha un problema perché vengono reputati così ci sono dei farmaci andiamo a vederli perché non mi sono complicati c'è la cetil cisteina 600 microgrammi per 30 dosi insomma questa è questo farmaco viene rilasciato su ricetta con questo nome o anche col nome di fluimucil 600 invece in senza ricetta viene rilasciato col nome di solmucol e come integratore col nome di uncadep e invece le 10 dosi per le 30 dosi sono con ricetta le 10 dosi sono considerate farmaco da banco acquistabile così senza ricetta per il pantoprazzolo 20 mg una cap con 10 capsule la stessa situazione serve la ricetta ma con altri nomi viene commercializzato come farmaco da banco ma il principio attivo è lo stesso allora ci chiediamo perché non introdurre questa situazione anche per la cannabis perché i pazienti non spingono insieme ai consumatori per questo perché potrebbe essere veramente un punto di distribuzione importante e soprattutto di garantire davvero il diritto di cura e di libera scelta a uno che ha una patologia curabile per studio scientifico anche internazionale con la cannabis al posto che rimanere sempre fissati su questo mercato chiuso di ricetta medica questa è la nostra proposta vedremo come la prenderanno le associazioni se la rilanceranno se la lasceranno cadere nel nulla ma noi ci teniamo a fare questo fateci sapere cosa ne pensate e soprattutto se avete qualche idea per questo uso medico da garantire da sviluppare che ripetiamo deve comunque correre parallelamente alla nostra richiesta di liberalizzazione totale che continuiamo a spingere bella free with us vi aspetto nei commenti fino a libertà ciao a tutti Grazie per la visione!